No, dicendo semplicemente no, la maggioranza degli irlandesi ha rimandato l'entrata in vigore in Europa del Trattato di Lisbona. Il 12 giugno l'Europa intera è rimasta col fiato sospeso in attesa del voto per il referendum sul Trattato semplificato. E adesso ci si chiede il perché di questo risultato. Una delle ragioni principali è stata la neutralità e anche la paura di perdere la nostra indipendenza. Non ho capito tutto del Trattato, per cui confesso non ho votato. C'è un po' di confusione. Ora aspetta probabilmente al governo fare chiarezza. Capisco che oggi sia tutto un caos. Per me non siamo stati informati, è una delle ragioni. Avrei gradito un po' più di informazione. Questo è il motivo principale. Voglio dire come potevamo dar fiducia con tutte le menzogne che ci sono state raccontate nel corso degli anni. Il vice direttore dell'Irish Times sostiene che Dublino e Bruxelles hanno sottovalutato la portata del dibattito sul futuro dell'Europa. Un paio di settimane prima del referendum, l'ex primo ministro che ha governato il paese per 11 anni fino al 2008 ha risposto sotto giuramento a delle domande nell'ambito di un'inchiesta. Il pubblico presente all'udienza si è messo letteralmente a ridere per le risposte date. Non è certo l'atmosfera giusta per dire credete in noi, non dovete preoccuparvi del trattato, non vi mentiremo mai. Non è stato un buon messaggio. Il fatto allarmante è che non sembrano tuttora rendersi conto di questo. Mancanza di comunicazione, arroganza politica, al di là dell'analisi che si può fare resta il fatto che adesso l'Irlanda è la pecora nera d'Europa, stigmatizzata come tale da chi sperava che il trattato venisse ratificato dagli stati membri entro la fine dell'anno. Il presidente dell'Associazione Irlandese Agricoltori per la Contea di Dublino ha votato a favore del trattato, ma solo dopo che l'Associazione ha avuto garanzie per tutelare gli allevatori nei negoziati di Doha. Il suo messaggio a Bruxelles. Dobbiamo combattere per gli interessi degli agricoltori, questo è il nostro lavoro. Dobbiamo batterci per gli interessi degli agricoltori, interessi che sono strettamente connessi ai negoziati internazionali. Voglio dire, il WTO è importantissimo, ci sono anche i problemi dei pescatori, il problema del continuo aumento del prezzo del petrolio. Dobbiamo far affronte a tutti i problemi comunitari all'interno dell'Europa. L'Europa deve ridurre i timori dei suoi cittadini. Questi sono i cantieri navali di Dublino, solo vent'anni fa magazzini e fabbriche, oggi edifici moderni, a dimostrazione che il soprannome Tigre Celtica con cui si indica l'Irlanda è più che meritato. Il boom economico irlandese ha richiamato migliaia di lavoratori da diversi stati membri. Il SIPTO, il maggior sindacato per il commercio in Irlanda, si è schierato contro il trattato. Eric Fleming sostiene che le ultime sentenze della Corte Europea di Giustizia, che sembrano aprire la porta al dumping sociale, hanno dato di che pensare. Dobbiamo fronteggiare il problema di un lavoro a minor costo, dobbiamo affrontarlo. Ciò che notiamo è che c'è un impegno collettivo che si è però spostato verso il tema del commercio, verso le imprese europee, un impegno che è minore nei confronti dell'Europa sociale. In molti sostengono che gli irlandesi avrebbero dovuto essere più riconoscenti verso l'Europa. miliardi di euro in aiuti e sussidi hanno aiutato il paese a diventare dal 73 ad oggi uno dei più ricchi stati membri. Non tutti sono d'accordo, tasse relativamente più basse hanno reso possibile il miracolo irlandese, dicono gli imprenditori, regime che potrebbe finire con l'entrata in vigore del trattato, sostengono i suoi detrattori. Difficile comunque capire cosa succederà adesso. Lo Sinn Féin ha votato no al trattato, la maggior preoccupazione riguardava la neutralità. Non si può procedere senza la ratifica di tutti i 27 stati membri. L'aspetto più preoccupante è comunque che alcuni leader europei hanno addirittura parlato di un referendum per decidere se tenerci nell'Unione oppure no. Nessuno tra i contrari del trattato ha messo in discussione il posto dell'Irlanda nell'Unione. Noi crediamo che l'Irlanda debba essere il cuore dell'Europa. L'idea di rifare un referendum ci appare profondamente antidemocratica. servirebbe piuttosto ad allargare il deficit democratico che esiste non solo tra l'Irlanda e l'Unione, ma all'interno dell'Unione stessa. I sostenitori dicono che il documento renderà l'Europa più democratica e ribadiscono che non è rinegoziabile. Il ministro irlandese per gli affari europei ammette che la situazione non è semplice. È una sfida per l'Irlanda, è una sfida per l'Europa, è un importante momento per lo sviluppo europeo. Il messaggio degli irlandesi è chiaro, ciò che è sottinteso è meno chiaro. Ci sono stati molti temi di cui si è discusso in campagna elettorale che hanno avuto un forte impatto presso l'opinione pubblica. Sappiamo per esempio che malgrado il voto negativo, gli irlandesi restano favorevoli alla costruzione europea e sentono che il trattato deve essere semplicemente rinegoziato. È chiaro, rinegoziare a 27 non è la soluzione più semplice. Dieci anni fa trovare un corso di salsa a Dublino era impensabile. Oggi i corsi di Amaeci sono completi. L'anno scorso si chiese ad Amaeci di fare le coreografie in occasione delle cerimonie per il St. Patrick Day. Per questo giovane insegnante di danza, i suoi corsi testimoniano il grande cambiamento che c'è stato in Irlanda. Il no al trattato. Tutti ne parlano, ma comunque si è deciso di andare avanti. Ce ne freghiamo di quello che chiedono i cittadini. Non si tratta solo degli irlandesi. Sono convinto che se si desse ad altri europei l'opportunità di esprimersi, voterebbero no al trattato. L'idea che l'Irlanda sia ingrata è falsa. L'Irlanda ama l'Europa. Senza l'Europa molte cose non sarebbero cambiate. I politici devono comunque chiedersi perché i cittadini sono così delusi. Sul trattato di Lisbona le nubi europee sembrano addensarsi. Qualcosa di sbagliato nella costruzione comunitaria c'è stato, così ha commentato il presidente di turno dei 27, Nicolas Sarkozy. Riprendere in mano questa costruzione è adeguarla alle esigenze della nuova Europa e la nuova sfida.